Tromba d'aria a Santa Marinella e a Civitavecchia, all'alba di ieri o meglio di oggi, una tromba d'aria ha creato molteplici danni, ingenti danni tra il porto e l'entroterra. Tantissime le barche rovesciate, le squadre della protezione civile si sono messe già a lavoro alle prime ore del mattino insieme al nucleo dei sommossatori che hanno controllato, meglio stabilizzato e messo in sicurezza le zone colpite. Non poca ma tanta tantissima, alzardo a dire la paura nei due comuni ubicati sulla costa, pochi però per fortuna i casi di emergenza, infatti nessuno è rimasto per fortuna ferito, ma la paura come si sulle dire ha fatto 90 e si è andata a ripercuotere su Santa Marinella e su Civitavecchia. Ringrazio tutti per la visione di questo video, ringrazio tutti per il relativo ascolto, iscrivetevi, commentate, un saluto caro da narratore italiano.